Primi scatti per la Gasseis Blue Energy Volley che dopo tanta preparazione ha varcato la soglia del palazzetto raggiungendo il cuore della città. Sono le prime fotografie per la campagna abbonamenti e la società Biancorossa ha pensato di coinvolgere anche l'autorità, anche il sindaco Patrizia Barbieri coinvolta in questa iniziativa, il tutto in vista della prossima stagione di Superlega che oramai è imminente. La campagna abbonamenti verrà presentata la prossima settimana. Abbiamo voluto fare qualcosa di originale legato proprio alla situazione odierna per cui non anticiperò nulla però posso dire che abbiamo pensato ai tifosi e abbiamo fatto in modo di farli sentire il più possibile vicino alla squadra con qualcosa di veramente molto originale che porterà ancora una volta Piacenza al centro dell'attenzione. Siamo ovviamente trepidanti in attesa, aspettiamo di vedere poi le normative, cosa ci consentiranno, ovviamente ospichiamo se non un'apertura totale del Palabanca una semi-apertura che consenta ai tanti tifosi di abbracciare dal vivo la squadra. Tante incognite sulla chiusura e apertura degli impianti, l'unica certezza al momento è la squadra. Volevano una squadra tosta ovviamente i nostri tecnici e a mio parere ci siamo riusciti. Diciamo che quest'anno è una squadra oltre che tosta molto spettacolare per cui, ripeto, stateci vicino perché ne vedremo delle belle. Un anno particolare per i tifosi, come la state vivendo? Beh, con apprezzione dal punto di vista appunto dello spettacolo perché fino adesso non abbiamo potuto vedere neanche un allenamento. Sappiamo che per via del Covid ci saranno delle restrizioni, anzi, a tutt'oggi è chiuso, quindi vediamo se la società riuscirà a avere delle deroghe per il 13 settembre e per la Coppa Italia per avere almeno quei 200 posti per entrare. Però la squadra c'è, voi siete un po' esaltati. No, la squadra è molto forte, siamo molto gasati e appunto il rammarico è maggiore perché non riusciamo a sostenerla come dovrebbe. Grazie a tutti.